Ritorna la pista sul ghiaccio con una novità, ce la vuole elencare? Sì assolutamente, la grande novità di quest'anno oltre al fatto, ecco ne abbiamo due in realtà la prima come si vede sarà la più grande pista del centro sud Italia ed è la pista presente nel parco giochi di Disneyland Paris come vedete abbiamo anche l'autorizzazione per utilizzare il logo e ci saranno su questa pista anche lo scivolo di ghiaccio come novità, come elemento per grandi e piccini e l'altro elemento interessante, questa volta siamo addirittura all'interno del nostro parco commerciale il parco commerciale Mugnano che appunto da quando è andato via Lushan ha deciso di adottare il nome della città di Mugnano quindi un parco commerciale chiaramente aperto a tutti ma con questa caratteristica e con questa vista di pattinaggio che parte adesso, parte con la fine dei festeggiamenti del Sacro Cuore e ci alliederà per tutto il periodo natalizio e anche oltre